Questo piano del rischio dei campi flegrei e del Vesuvio sono piani che vanno avanti da più di 20 anni, se non 30. Completata questa mattina l'esercitazione della protezione civile per l'area vulcanica dei campi flegrei, che ha coinvolto alcuni comuni del territorio nella simulazione di una situazione di allarme. La zona rossa dei campi flegrei comprende 7 comuni e una popolazione di oltre mezzo milione di persone. Il test è cominciato giovedì 17 con la simulazione di una fase di preallarme, corrispondente a un'allerta arancione. Il comune di Napoli ha attivato il proprio centro operativo nella zona di Poggio Reale, con tutte le postazioni pronte a reagire alle molteplici situazioni e alle diverse criticità, simulate in tempo reale da un'apposita centrale. Siamo partiti con l'organizzata e la sala che poi ha ospitato il COC, il centro operativo comunale, con dei tavoli, con dei telefoni e con collegamento online dei pc. Sono state coperte 11 funzioni con 13 servizi del comune di Napoli per dare un supporto in caso di emergenza. Stiamo sperimentando, c'è tanto entusiasmo, ma c'è anche tanta necessità di imparare per farsi trovare pronti per le esigenze che veramente potrebbero verificarsi, speriamo mai. Sabato 19 la simulazione di allarme, l'allerta rossa, con l'evacuazione di alcune scuole che ha coinvolto centinaia di studenti trasferiti nelle aree dell'ippodromo di Agnano e del parco dei Camaldoli. Sono stati così verificati i tempi di percorrenza e i tempi necessari a identificare le persone con un dispositivo a lettura ottica. In caso di allerta rossa, alcune regioni italiane gemellate col comune di Napoli potrebbero accogliere gli sfollati. L'idea mia è quella di utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale, le app e quant'altro per consentire a ognuno di noi di conoscere sul proprio smartphone quello che deve fare in una situazione di emergenza. È fondamentale l'attività esercitativa perché nell'attività esercitativa si testano le procedure, i protocogli e la gente tocca con mano quello che dovrebbe fare in caso di emergenza. Quindi noi spingiamo molto sull'esercitazione, ovviamente accompagnata da una opportuna e adeguata informazione alla popolazione.